Per Piemonte, per l'Europa, Genda piana e genti bri, Summa l'erta, gisla piota, Cun ardor di Dianchi, Piemonte al dita d'amur, Caladane il creatur, Piemonte al dita d'amur, Si brande del nostro lupo. Buonasera a tutti gli amici e gli amici che ascoltano e guardano e volentano parlare e cantare in Piemonte al dita d'amur. Stasera mi sento un po' diverso dal solito, ma sono venuto in questi anni tante volte a Telegranda, ma ero sempre setta con la cadrega lì, e sì, era quei d'un di altri che fazia quei domande, che portava all'attenzione l'argomento, invece stasera l'è proprio una sera particolare, perché Renzo, che ancora nelle ultime settimane, mentre mi ero setta lì, che all'era setta sì, a fome le domande, adesso la situazione all'erribalta, ma mi sono proprio content, perché stasera l'ho da presente è un libero scritto proprio da Renzo, Giraudo Lorenzo, andua a un ciamare il vento, mi ha quasi un titolo da film, che una volta va dove ti chiama il vento, dove mi chiama il vento, las fai bing. Cosa hai un libero? Beh, in un istituto hai un libero bel, perché buttano insieme tante cose, e sono tante sue memorie, ricordate, e quando l'era giù, ma nemmeno, poi vediamo il cammino facendo, e poi sono anche delle belle conti, e che l'era già, e mi le conoscivo, ma per l'anno specializzando le conti, ma poi, ecco, sorpresa che l'avevo sentito che i cosi, ma poco, l'ultima parte del libero, ha le Renzo Poeta. Vabbè. Eh, ci sono le poesie, poesie che, ma lo vedo, ma sono quasi tutte, quelle purtanque liberi, che parlano, ahimè, dei due anni che oramai viviamo con il Covid, e che sta con la tua fonte di ispirazione. Eh sì. Ecco, che è un... La ci siamo, la ci siamo, chi si escuta sicuramente conosce il Piemonteis, capisce il Piemonteis, penso anche che lesa il Piemonteis, ma se proprio fosse a quei due, che là, che ha il problema, oppure, mentre lesa il Piemonteis, dice, lei ne capì ben cosa vuol dire, quella parola, quella frase, Renzo l'avevo, un'idea proprio bella. Ogni capitolo, ogni capitolo, l'è scritto, prima in Piemonteis, e dovremmo una parentesi. S'avvio pa' che ti s'avessi scrivito così, ben il Piemonteis, mi sono niente a questo livello, eh, tu lo dici proprio. l'avevo fatto due o tre corsi, un anno, il nostro presidente, eccoli, per spiegare. E allora, brava Anna, la s'avessi avuto, un anglio, ben in gamba, che l'amparà. Poi ti dirò, lanciarmamme la storia, con Renato Canini, il nostro primo presidente, quando mi sono andate in pensio, praticamente, che era sesso che era, portare a questa cosa, e la ci siamo andate, vengono a lui, perché l'associazione Piemonteo vive, l'aveva stata fondata nel 1993, che sono andate in pensio nel 2001, quindi, chiedi, beh, e poi li tagli, e senti l'olore, e poi li dicono, ma è pieno un po' bene. E allora, vocabulari, grammatica alla mano, pian pianino, e poi così, direi che... Ma, un'altra cosa, se, magari, le persone che si escutano già a una certa età, e dicono, oh, mi, i giornali, andano le lettere strette, cite, 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 lesi, anche se, butui, c'ha il problema, preoccupatevi nè, perché, perché Renzo, la dita al tipografo, buta un carattere, l'arca, tutti i polunglesi, che fanno proprio nè, in tribolet, insomma, il Piemonte, la tradizione in Italia, i caratteri grossi, e, allora, la prima domanda, che voi fate, Renzo, la domanda, che ha già, la risposta, sì, del tuo libero, perché, la sversù, scrivi, questo bel libero? ma, sto libero, appunto, le, io vorrei scrivere, appunto, per la sé, la pignata d'accordo, la nostra vita, la nostra gioventù, che, spero, che sia ancora tanti, che, posso arrivare via, perché, poi, più o meno, in quegli anni lì, mi fai tutti, più o meno, le stesse esperienze, perché, le ricche, fassi un'ambondanza, per cui, come l'avevo scritto, per tenere viva, la memoria del tempo, della mia gioventù, Amar paga, fidea la carta, di eschi, non c'è anche vita, la testimonianza, di un che, in quegli anni, si fasia, sotto alla topia, perché, penso che, quel che l'articolo, che riguarda, sotto alla topia, è forse, quel che, mostrat più, lo che l'era la vita, a quel momento, perché si fasia, quelle riunioni, che mi dice, mai radio scarpa, che, david, con mia madre, le sue amise, quindi, le venite, me l'avevo scritto, con proprio, per l'invito, Renato Canini, e lui, comincia a scrivere, quei cosi, visto che, certi, certi conti, più di più, piaci, allora, il germano, e di boh, magari, vi tommo tutti, eccema. Ma, benissimo, fumo parelli, le conti, io lascio, ai amici, che, Cataran è libero, eh, mi raccomando, e che, le saranno, dei momenti, della tua vita, che, l'interessante, vedi, cominciamo, dalla naia, ti, se stai, un artigliere alpina, in effetti, se stai, un fantocino, di mettere, 65, laschai, centimetri in più, ecco, ma, poi, c'è una cosa interessante, che magari, si racconti a sti, l'estate anche, l'occasione, mentre fasi, la naia, o mei, mentre, ieri, veni, in licenza, coni, a, la frazione, Zamblè, e conosci, una bella francesina, con le capitale, le capitale, che, alla fine, che, poi, con la serra, neanche parlai, perché, mi hanno visto, che ballava, e, io, parto, attorno, in casera, ecco, e, poi, l'ho rivista, l'ho rivista, i sant, perché, che, a San Pedro del Grado, l'avevo con noi, la tomba, e così, su me, io, se fei, che, l'era, chiusina, con la mia, chiusina, quindi, e, quindi, l'ipotevo, l'indirizzo, e ho cominciato a scrivere, e, da lì, pensa, quando la naia, si aveva nel cofe, mi era una fureria, e, la vita del tempo, a scrivere, e, allora, e così, si è diventata, poi, mia moglie, due o tre anni, dopo, che salituma, propit, ma anche lì, per dirti la naia, la naia, l'esta inesperienza, quando la mandamme a Roma, per esempio, che l'estate, a fare cura di artificie, per pensare, andassi a sparare a Nettuno, sul mare, però, però l'estate belle, per tutte le persone, che l'ha conosciuto, io penso che la naia, sia stata, una cosa, proprio, una bella esperienza di vita, perché l'incontrano, un sacco di gente, tra cui, erano alcuni che erano, anche tanto bucalesi, scrivono, e tanto dire, o l'ucurdo, va che, in tiani 60, sono quelle cose belle, che per spazio, ben tanti, perché, e quindi, per me, è stata una bella cosa, dai. E poi, nel 1965, lei è stata, il matrimonio, ma l'ha scrivito, proprio, bello, chi l'ha, se sembra, quasi, come di, invita, un po', da scondiù, ma tu, non che le capitate, lo ricorda, spropi, il Disney, oh, che Disney, altro che ristoranti. mia socia, la poverina, le era detta, c'erano che, come diciamo, già, i calamaretti, mi si sa, in una, non ricordo, questi c'erano portare, questi calamaretti, come si sa, una bella figura, e i nostri piemontais, che forse, quelle bestie, le avevo mai visti, e altri, mi non li, mangio bene, queste camole lì, e il Disney, lì alla fusta, e mia socia, la poverina è diventata rossa, ho detto, questo che si casca, e così ha fatto, è stato carino, dai, poi l'estate, a bella l'avventura, che qui, che sono un filasse, sulla promenade, des anglais, che poi l'ha girato all'aeroport, perché l'ha buttato, si è messo la macchina, che si è pia l'aereo, e per fortuna, che era l'avvocato, quelli che la faceva, il testimone, che la sa vu, a desbluisse, per arrivare, a cosa, comunque, un'avventura anche costa, dai, bellissima. Renzo, come travai, all'estate, è un bancario, non è un banchè, non è un proprietario, ma è un estate, è un bancario, e anche, l'esperienza, il bancario, la spropi, con talabin, con tante storie, storie, le aneddoti, cominciamo con la storia, delle scherze, fatte al pover direttore, è stata un'esperienza, importante, quella del travaglio. Guarda, qui l'ha scritto, perché l'ha scritto, talmente, scheritoso, che lui non aveva mai più immaginato, che chi lì aveva fatto scherze, perché l'abbia scoperto, e l'ho scoperto dopo. E d'altra parte, questi, effettivamente, tra l'altro, non faccio i nomi, perché per carità, le persone che è già mancate, non c'è più, poverino. Comunque lui, veniva sempre a spazio, per dire, arrivava la sera, per vedere la firma, per vedere la firma, per vedere la firma, perché lui stasera tutta mancata, e quindi trovava una cosa da dire, perché sono sì, perché? Ma dì, aspetta un po' una minuita. Poi dopo, insomma, oltretutto, poi si era anche un po' innamorato di qualche signorina, di quei cose. E alla fine, erogava un po' di credito, un po' mal erogato, e per dire, è un po' di più stupendo per te. E allora, dopo l'ora studiai, questo coso, e alla fine, mira, mai più immaginati, che mi stava, al gutta l'arsen dritta, al viga, non li la fai, però non li ha fatto, non li fai troppo male. La ma rischierai un po', il coso, no. Le tue basioni, a volte le tue basioni, per quanto è giù, lo li passa facilmente, non è un problema. Penso, ti sas che cantè un piaccio, e infatti, conto, se te le grande le d'accordi, vieni poi, nelle prossime volte, per cantare, le canzioni piemontese, d'altronde, questa trasmissione, le parlano, e cantano piemontese, cantano le un po' di smenti, e allora, cerco di fare i conti. L'ha già capacità di fare. No, no. Ecco, le piacciono anche tanto, perché, conoscivo ben, tanti amici, la tua esperienza, della baita, quindi anche ti, lascanta e lascanta, nemmeno una coralla, una quattro solt, lascanta in la baita, come le stai, che si entra la baita. Cioè, mi, io cantavo già con un gruppo, bene, non c'era io, 4 o 5 amici, e poi, su me, abitati a staconi, perché allora, ero s'obbligato a andare in tanti paesi, dove andavo a fare il direttore, e mi dava nanti, poi su un'altra cosa, comunque, su me arriva a Cunni, e le incontra, un mio collega che cantava la baita, e le dice, ma perché venne, nella sera, senti che, al gioco, la sera, fumo le prove, e io ero ancora buonanima del maestro, Piero Costamagna, che dirigeva il coro, a quell'epoca lì, e su un dei là, la quella sera lì, ovviamente, mi piaceva, perché, e che, la c'è mamma, la fave prove, però di ma, se vedi, venne pure, la media, e c'è un penco, il mio fumo, e poi, l'avevo già decidito, e poi, se non, tu andai lì, e le stai belle, c'è un'esperienza fantastica, poi ti ho detto, per esempio, l'hai contato, l'hai scritto, forse l'aneddoto, come quando, l'hai cantato, per Natale, in tal dom, che le presentasse, Beb Rus, che ti conosces, benissimo, che personaggio, che era, mi riuscirai, arriva, con chi aveva il capello, la mantlina, simpatico, presentato, ha emozionato tutti, no? Poi, alla fine, quando l'hai cantato, la gioca del bambino, è stata veramente, una cosa bellissima, un applauso, e la prima volta, che mi li cantano, mi cantava, giù in la cesta, Sant'Ambres, a Mersanmesanoico, e allora, Piero, arriva, stasera, per svegliere, io tutto contento, e la prima volta, una bella emozione, dai, estete, e quindi, farsi auguri a tutti i cori, tra l'altro, approfitto, ma quello, perché, attraverso, attraverso un momento, non passare, proprio due anni brutti, brutti, perché alla fine, non fanno le prove, no? Oh, per carità. E la gente, non c'è la paura, però non c'è la più invitata, comunque, insomma, auguri la baita, che mi pare che, passare la feita, stantane. Eh, quindi, se pensate, quindi. sa che le piace, tanto lesi le conti, ma che sono i tricord, delle tue due nonne, e a me tu che l'ha impressionante, perché, quando penso alle mamme da adesso, che se l'hanno già due o tre, cominciano a dire, mi mi si. mi mi si. mi 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 si. Ecco, se ricordo bene, Nonna Maria, la feita, 17 figli. Ma come l'è? 17 figli. Lei era la sedicesima, della sua famiglia, e ha battuto sua madre per uno, perché ne ha fatti 17. Pensa che ha cominciato a partorire, nel 1909, Barba Previ, di Don Giordano, che ti ricorda, che faccia l'organista, e come l'organista, e ha fatto il suo seminario, eccetera. E poi è terminato a partorire, nel 1933, una delle sue figlie, aveva già partorito un nipotino. C'era un nipotino. Dunque, quindi fa me capire, l'ultimna, era del 1933. Barba, no, era una signora. Eh, sì. Sì, l'era la magna. L'era già magna, prima di nassi. Prima di nassi. Quindi, che storia bella. Però, come dici, sono tutte storie che merita proprio guardare e lesi insieme. Senti, il tempo avola. Mi però, dici, dovresti fare qualche regale. Ti adesso, dovresti trovare il libro, è piena poesia, capisci, e lesla. Ah, sì, sì. Più ne avevo una quella quando hai scritta sul Covid, la prima che ho scritto. perché purtroppo il Covid continua. Se adesso è una televisione, le trasmissioni, picche Covid parlano niente, quindi, le picche d'attualità. mi. lei lascia scrivere tante, coronavirus, ci pensi. Però, ma anche, le summa prima la goi. La goi. La gioia. è una po' di gioia, con la gioia. Così almeno. Allora, e parei, che proprio conoscivano, conoscivano anche, Renzo, poeta. E beh, più o meno. Più o meno. Comunque, mi avevi scritto così, per il Natale, una festa. Allora, la goi, ha fatto poco, non ha avuto la primavera, le stelle, in una sera di stag, o le fai, a cercare, la scrisse su Taipei. La goi, ha avuto una farfalla che vola, non ha avuto che ciuccia la mel da un virus solo, sente l'udore di feng pena tagliare, o il sorriso di una bella masna. La goi, ha sognato di essere content, trovando il cauto quando fuori a Fiocca, passando il Natale allegro e in paz con tutta la famiglia, a Saranete, un castello di fantasia che dura come un bel sogno, come un vasino d'amore che vende dal cuore o l'arciano festus un nasurgis che canta. Ma che bello, questa è la goi delle cose semplici che piacciono. Che sono un po' il tema del libro, praticamente, non è niente di speciale, però sono emozioni, che spero che per un po' emozione, tante che sono più o meno come noi, le nostre età, queste cose le vivono via, come le nonne in campagna, eccetera. Però adesso, dopo la goi, tu non hai la realtà, il coronavirus. che stava vivendo, in maniera, non è due o tre. Le mille, questa sera, è il città pensiero che è inizialmente, quando ero in la bagna, in principi. È ben probabile che noi, guardando giù la terra, abbia notato troppo belle danza a certi ommi che governa il mondo. Guarda che è bella anche la cosa che l'ha fatta, che la fanno le firmie, come delle formichine sotto e carina. E come? Tanta fausaria, troppo spattus, in tanto che tanti buonumas ha patissato la fame e la guerra. Quel che della sua pultruna in paradis riesce a vede fin alle brise, ben triste, disgustate tanta fausità e injusticia, alla c'è mai el diao cosa che era mai fe. Bernif, alla suggeria in maniera giusto ca in coronavirus, a semne la tammat la mort, a fea capi a tutti, che avendo abbassato un po' la cresta, rispetto a madre natura e senza tanta buona torna ai cristiani. Quindi penso che... Eh, proprio i paradini che almeno sia poi questo che imparano ai cristiani. Giù tei sono una presa, giù tei sono una presa, arrivi un pochettino con le tradizioni semplici che la mostrassi e che invece adesso gli mappi il burdello, tecnologia, i giovani hanno troppa tecnologia, forse, sono un barassà cosa scegli, viaggio col telefono in manco, sono tutti, io mi sento un handicappato perché è più raro, è più raro. e allora penso che vediamo sarà la nostra la nostra trasmission con la poesia a Natale. parei fumacca già i auguri e entriamo a Natale con la tua bella poesia in Piemonte del Natale. Sì, 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 anche la Teresita è una bella cosa da ricordare. e come, no, è proprio bella anche sfogliere libero e guardare le tavole che la feita con questa Teresita bravissima. E allora parei che approfittiamo per salutare con le parole di Renzo. Fumaggia gli auguri ma ne sarà ancora anche l'occasione e buon Natale a tutti gli amici che si escutano e grazie a Renzo che l'ha feita questo bel travail e che ancora l'ha stata insieme a noi. Grazie Giovanni, sono troppo bravo. E mille, io appunto per finire il libro l'hai scritto per completare la riflessione sul mio cuore gravata a questo virus e concludo con questo cito pensi che l'hai scritto per marcare il Natale. Il Natale ma guna del Covid-19. Questo virus ha semnato la paura e stermi surrì tutta l'umanità. Per recuperare poca serenità proviamo a tornare a znare e a charmer la mente i bei dit l'infanzia quando la mattina la festa tutti unì in famiglia con tanta goia di spaggata o le sorprese. S'arcoma caminare con l'anima contenta sull'astra alluminata della stella grande. Gavamo dall'astut le barricule dell'amore. Fommi a tutti i nostri amici e a tutto il mondo. Mago parelli escapirà che con un po' di rispetto delle regole immagini keyless gusta la vita e la piacere della poesia. A te l'ultima parola saluti. Saluti a tutti tanti auguri buone feste se che ti la voglia di comprare libero penso che fassi una cosa una scoperta simpatica perché troverà da bel cadò per Natale bel cadò per Natale e quindi vabbim parelli speriamo grazie mille arruzze a tutti alla prossima e alla prossima buona serata. del nostro lupo